Che dire, cosa possiamo fare noi dopo aver ascoltato questo dibattito, dopo essere stati in Ucraina, devo dire che è stata un'esperienza fondamentale, fondamentale per capire da che parte stare e credo che anche questa sera sia tranquillamente emerso da che parte stare, stare da parte della gente comune, stare da parte degli artisti, degli studenti, degli attivisti, dei lavoratori che abbiamo incrociato in quei tre giorni importantissimi di questa carovana. E poi cosa fare qui nei nostri territori? Sicuramente continuare la campagna di solidarietà con il popolo ucraino, sicuramente vogliamo tornare in Ucraina il prima possibile, io credo che le date prossime saranno a inizio, a fine settembre, insomma il tempo di raccogliere i soldi necessari per, come avete capito, dove andranno a finire questi soldi, andranno a finire in aiuti che dal basso vanno a sostenere le comunità che stanno resistendo. Per cui io credo che questa campagna, insomma, questo è solo l'inizio, perché come ci raccontava Medina adesso, insomma, credo che dopo anche l'esperienza della Bosnia, ci aspettano dei lunghi periodi di sostegno per il popolo ucraino. Però voglio dire anche che non esiste solo quella guerra, e noi lo sappiamo benissimo, insomma, da sempre noi abbiamo cercato come sindacato, come Adiel Escobas, ma anche come centri sociali del nord-est, di stare a fianco a tutti coloro che resistono in questo mondo, no? Per cui siamo da poco tornati dalla Palestina, a metà agosto partiremo e andremo in Messico a incontrare le comunità indigene che resistono a loro modo contro l'idracapitalista, no? Per cui andremo a capire qual è, dove sta colpendo il capitalismo, anche in un paese importante e amico nostro, soprattutto noi amici degli zappatisti, cosa possiamo fare noi dal basso? E possiamo fare innanzitutto anche delle azioni che, come si diceva, insomma, devono avere quella intersezionalità di cui tanto parliamo, perché aiutare i lavoratori e le lavoratrici vuol dire aiutare gli uomini, le donne che stanno avendo un ruolo fondamentale in questa guerra, avete sentito, dal lavoro di cura, al lavoro in miniera, al fatto di sostenere le proprie famiglie, in qualche maniera perché gli uomini sono al fronte. E non solo intersezionalità dal punto di vista del transfeminismo, ma anche intersezionalità dal punto di vista ambientale, perché abbiamo sentito adesso, appunto, Medina, di cosa sarà di un dopoguerra, no? Della devastazione, delle fabbriche bombardate e poi abbandonate, con resti e chimica e quant'altro, fiumi e laghi sicuramente inquinati. E cosa sarà anche, per cui penso che sia fondamentale sostenere in tutte le forme, come tutti i popoli, ci sono oltre 50 guerre in questo momento. È chiaro che quella ucraina è quella che più ci sta vicina, di cui si sta parlando tanto, ma ce ne sono tantissime di dimenticate. Io credo che il nostro compito sia anche quello di mettere in evidenza, no? Come, appunto, ci siano guerre di serie A e guerre di serie B. Probabilmente questa è di serie A, perché mette veramente a confronto, no? Come si è detto più volte questa sera, due imperi. E invece ce ne sono tantissime dimenticate. Non dimentichiamo, appunto, l'attacco al popolo kurdo, che in questi giorni è sempre più evidente, no? Come venga svenduto il popolo kurdo, la loro importante storia, per una questione, appunto, di controlli di imperi. Per cui io credo che, insomma, sia questo che noi dobbiamo continuare a fare e lo faremo con tutte le nostre forze, con tutta la possibilità che abbiamo di noi, dal nostro ruolo un po' privilegiato, no? Assolutamente privilegiato di poterci muovere nel mondo e di poter andare a incontrare queste persone e costruire delle reti vere, delle reti che dal basso possono realmente sostenere la resistenza sia del popolo indigeni che, appunto, di tutte le persone che stanno vivendo questi conflitti in maniera veramente drammatica, e l'abbiamo sentito anche questa sera. Senza dimenticarsi mai di nessuno. Per cui credo che questo sia importante. E poi cos'altro c'è di importante? Di importante credo che, dal nostro punto di vista, sia continuare anche la battaglia contro la militarizzazione dei nostri territori. Essere a fianco ai compagni e alle compagne di Coltano che stanno facendo una battaglia fondamentale contro l'allargamento di una base NATO nel nostro paese. Essere a fianco, appunto, di tutti coloro che si stanno battendo contro il cambiamento climatico. E stasera ne abbiamo avuto un piccolo accenno, visto che dovevamo fare il dibattito da un'altra parte, ma il vento e la pioggia ce l'ha proibito così improvvisamente. E stiamo vivendo questo problema della siccità. Per cui io, così, su questo problema dell'acqua e della siccità, dei cambiamenti climatici, che sono strettamente collegati, appunto, anche alle guerre economiche tra imperi, vi inviterei sabato prossimo a un'altra iniziativa, secondo me, molto importante, che è quella che, come sempre, il mondo mette davanti il profitto e l'economia. E mentre noi, nelle nostre case, a causa della siccità, abbiamo i rubinetti, che fra poco l'acqua sarà ridotta, anche di notte non ci sarà, non possiamo più irrigare gli orti, non possiamo più fare niente, veniamo a scoprire che la Coca-Cola possiede una fonte inesauribile tutta per sé e che per loro non c'è nessuna diminuzione della produzione, mentre noi, che siamo qui tra di noi, dobbiamo subire la sette, non solo noi, ma soprattutto in moltissime altre parti del mondo. Per cui sabato prossimo saremo a Nogara, che è vicino a Verona, confondo Nogara con Nogaro, non so perché, e saremo lì per fare questa iniziativa, per dire appunto che l'acqua è di tutti, che l'acqua è un bene comune e credo che sia fondamentale collegarla appunto a questa guerra tra imperi, che come sempre vede le persone, gli ultimi, i poveri, o comunque chi sta in basso, a dover subire più fortemente di tutti gli altri questo aspetto e soprattutto la guerra al capitalismo.